Garantire il diritto alla cura in maniera equa su tutto il territorio nazionale, infatti, è un aspetto cruciale per la tenuta delle nostre comunità. Uno dei principali compiti della politica e delle istituzioni è porre le condizioni affinché ogni cittadino sia messo in grado di godere di questo diritto, investendo risorse adeguate e definendo interventi di potenziamento della sanità pubblica. In altre parole, l'obiettivo deve essere quello di fornire servizi di qualità in ogni regione d'Italia, in ogni città o area, ridurre i divari esistenti e dare corpo ai dettami che la stessa Costituzione, il nostro faro nelle azioni per il bene comune, stabilisce.